Tadio Rossi, la federazione vi ha premiato, il merito a voi perché lo scorso anno siete state fantastiche, credo che questo vi faccia onore per quello che avete fatto la passata stagione. Assolutamente, è stata una grandissima soddisfazione vincere questo girone, ce l'abbiamo messa tutta. È un motivo di grande soddisfazione più che altro perché siamo arrivate in finale con una fame, con una voglia che raramente si vede nella squadra di calcio e noi ce l'abbiamo messa veramente tutta. Comunque questo premio è segno di tutto quello che abbiamo fatto nel corso della scorsa stagione. Il compito, l'obiettivo quest'anno è di ripetere lo scorso campionato? Assolutamente, migliorarlo magari sarebbe ancora meglio e vincere questa volta i play-off per salire sicuramente di categoria. Quali sono le sensazioni per questa stagione che è iniziata? Sicuramente molto positiva, abbiamo un gruppo molto unito, nonostante alcune ragazze sono andate via, è una cosa normale nelle società anno per anno, sono arrivate altre ragazze altrettanto bravi, altrettanto vogliose di dare tutto quello che hanno per raggiungere l'obiettivo di tutta la società, di tutta la squadra.